Bellissima e senza peli sulla lingua. Natalie Caldonazzo è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più controverse di questa edizione del Grande Fratello VIP. In effetti, è stata spesso protagonista di accese discussioni nella casa e non si è mai tirata indietro dal dire la sua. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex Jeffina ha quindi fatto un bilancio del suo percorso nel reality di Canale 5 e ha colto la palla al balzo per lanciare qualche frecciatina velenosa ai suoi ormai ex compagni d'avventura. Mi hanno deluso umanamente Alessandro, Sophie, Lulu, Jessica e Baru. Ha perciò dichiarato. Ma chi l'ha delusa più di tutti? Ovviamente la Codegoni, forse perché Natalie aveva legato molto con lei. Sophie mi ha tradita alle spalle. Mi ha dato della razzista senza motivo, nonostante l'avessi sempre trattata bene. Tuttavia, è scontato dire che le concorrenti con cui la sugarl romana ha litigato più duramente sono le principesse Selassie. Difatti, nel corso dell'intervista, non sono neanche mancate parole pesanti nei loro confronti. La cosa bella di Lulu è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Insomma, ancora una volta la Caldonazzo ha dimostrato di essere schietta e senza filtri. E sicuramente è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del GF VIP.